buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 21 dicembre 2023 e vediamo subito chi si festeggia oggi sfogliando l'almanacco del giorno e troviamo san pietro canisio che visse nel xvi secolo ebbene era un olandese che fu un degno figlio di sant'ignazio di loiola in quanto entrò piuttosto presto nella compagnia di gesù ebbene san pietro fondò vari collegi partecipò a tre congregazioni e soprattutto partecipò al concilio di trento contro la eresia di lutero fu provinciale di germania e poi scrisse un'opera importante scrisse il catechismo un'opera che fu così si estese fu divulgata in tutto il mondo cattolico ecco perché san pietro canisio è conosciuto non solo per la santità della sua vita improntata alla povertà ma anche alla predicazione ma soprattutto anche per l'opera che ha scritto per il radicamento della fede vediamo ora le previsioni del tempo un leggero cambiamento rispetto alla giornata di ieri nubi medio basse tra la notte e la mattina insomma in questo momento con bassa probabilità però di fenomeni atmosferici le temperature massime saliranno fino a 13 gradi la minima 5 i 20 saranno moderati sulle coste con una direzione media da ovest nord ovest nell'interno da sud ovest il mare è leggermente mosso il sole sorge alle 7 e 37 tramonta alle 16 e 31 dovrebbe essere oggi la giornata del sostizio d'inverno in realtà il cambio di stagione cadrà in modo particolare alle 4 di domani notte quindi ancora qualche ora per cambiare la stagione passare dall'autunno all'inverno e ciò detto oggi abbiamo il corriere adriatico che ieri non era in edicola per un incidente che ha coinvolto il trasportatore nei pressi di gubbio un incidente piuttosto grave c'era una signora a bordo di un'auto che camminava contro mano sulla strada ebbene ha coinvolto ha sbattuto contro il camioncino e l'autista si è procurato delle serie ferite agli arti inferiori e superiori ecco perché il corriere ieri non era in edicola questa mattina è tornato e quindi apriamo la prima pagina sulla pagina di Fano e vediamo che si parla di tariffe di tariffe perché un po' tutti i comuni in questo periodo stanno approvando che magari ci riesce perché non tutti il bilancio preventivo per il 2024 ebbene oggi il corriere si sofferma solo sulle tariffe perché poi il Consiglio Comunale che è stato convocato ieri sera poi ha approvato il bilancio preventivo ovviamente l'ha approvato a maggioranza ma questo articolo però si limita soltanto alle tariffe dei servizi a domanda individuale ebbene tutte le tariffe rimarranno come sono nel 2023 non ci sono aumenti eccetto in un settore quello della cultura infatti aumentano i biglietti di ingresso al Museo Civico alla Pinacoteca perché aumentano? aumentano perché l'assessore alla cultura Cora Fattori ha detto che intende riqualificare questi servizi estenderli anche infatti ci sono biglietti cumulativi per la visita non solo del Museo Civico e della Pinacoteca del Palazzo Malatestiano ma anche del Museo della Flaminia nei pressi dell'Arco d'Augusto e per quanto riguarda l'ingresso dell'area archeologica sotto il convento di Sant'Agostino un biglietto cumulativo di 10 euro che consentirà veramente di avere una bella percezione della Fano romana e poi qui in questa tabella abbiamo invece un riassunto di tutti i servizi predisposti dal Comune e la loro differenza per quanto riguarda la copertura dei costi ovvero quanto si incassa e quanto si spende ovviamente esiste sempre una differenza è il Comune poi che deve mettere la differenza e vediamo che il servizio che costa più di tutti e ha meno resa è quello del... dunque facciamo l'incontrario diciamo che il servizio più coperto più coperto è quello della Casa di Riposo Don Tonucci in quanto il Comune diciamo meglio in quanto il pubblico copre l'85% delle spese il resto circa un 15% lo mette il Comune e così fa con la mensa scolastica per un 77% quindi una percentuale lievemente inferiore il Comune copre la differenza tra il 77 e il 100% invece quello che costa che costa di più al Comune è quello dei bagni pubblici che incassa pochissimo 2.000 euro invece costa 7.350 euro e dei bagni pubblici onestamente si è parlato in maniera critica anche ieri sera in Consiglio Comunale grazie ad una interrogazione presentata da Fratelli d'Italia ebbene i bagni pubblici a Fano in centro storico difettano e al momento insomma non ci sono decisioni provvedimenti che possono realizzarli in tempi rapidi e questa purtroppo è una grave carenza va bene comunque vi lascio a voi il piacere di leggere questi dati dato che insomma la maggior parte dei servizi non aumentano e passiamo ad altri argomenti c'è un articolo di spalla che riguarda un cambio di componenti nel CDA della Wider questa grande impresa della cantieristica che ha realizzato il grande cantiere nell'area della cantieristica del porto di Fano ebbene cambia l'assetto del CDA di Wider che nel frattempo continua a lavorare per il completamento di questo grande capannone che dovrebbe essere abbellito perché ad un primo impatto era simile ad uno scatolone quindi deve essere ancora movimentato per quanto riguarda le sue soluzioni architettoniche a capo dell'organo dirigente è stato indicato Massimo Iacono che già ne faceva parte mentre viene investito del ruolo di presidente onorario del cantiere Norberto Ferretti e quindi Ferretti entra nel CDA della Wider ebbene sono questi cambiamenti importanti cambiamenti che alimentano e soprattutto qualificano la cantieristica fanese che estende sempre di più il suo ambito nei mercati internazionali ed ora un articolo di cronaca che viene un po' evidenziato da tutti i giornali questa mattina per la sua importanza ebbene è stato sgominato un raggiro per quanto riguarda non è tanto un raggiro proprio un'aggressione un furto per quanto riguarda lo strappo di catenine agli anziani un fatto un evento che si è verificato la scorsa estate strappa catenine d'oro agli anziani scatta l'arresto per cinque colpi in centro in manette è finito un trentenne che agiva lungo il corso Matteotti in modo particolare e poi aveva con sé due complici che sono stati denunciati due complici di 18 e 25 anni che lo aiutavano in caso di emergenza comunque questo trentenne sceglieva con molta attenzione le sue vittime scegliendole tra i 65 e gli 80 anni quindi persone che non avevano una grande capacità di reagire quando lui poi le aggrediva strappando la catenina per fortuna la testimonianza di un 65enne è servita agli inquirenti per individuare questa persona che è stata tratta in arresto e ora è stata denunciata con l'imputazione di rapina ed ora restiamo a Fano per parlare dell'azienda speciale alla persona l'argomento è stato portato alla ribalta dalla conferenza dei sindaci dell'ambito sociale numero 6 l'altro giorno una conferenza convocata per protestare nei confronti della regione che aveva mostrato l'intenzione di sospendere tutto l'itinerario incontro in corso per la trasformazione dell'ambito sociale in azienda speciale è un provvedimento che avrebbe dovuto invece spostarsi entro diciamo così verso il 30 giugno 30 giugno prossimo ma comunque dopo le elezioni amministrative il che aveva corso il rischio secondo appunto i sindaci di sospendere oppure creare problemi disequilibri nella prestazione dei servizi sociali così non è ha detto Fratelli d'Italia replicando a questa tesi una tesi che poi è stata condivisa anche dalla consigliera regionale del movimento 5 stelle Marta Ruggeri che ieri ha presentato due emendamenti in realtà è stato approvato l'emendamento di Carlo Ciccioli che ha spostato appunto la definizione di questo procedimento al 30 giugno prossimo mentre Marta Ruggeri aveva indicato due date che andavano ancora più là il 30 di settembre oppure in subordine il 31 luglio questo per dar modo alle rappresentanze locali ai consiglieri ai sindacati ai rappresentanti delle associazioni del terzo settore di dare il loro contributo di essere meglio informati intorno a questa prestazione e comunque la regione la commissione in cui era in discussione questa cosa la commissione bilancio ha approvato l'emendamento di Ciccioli e quindi se ne riparlerà per il 30 di giugno prossimo un altro incidente si è verificato ieri in località Baia del Re a Fano una donna falciata sull'Adriatica ed è gravissima ed è stata portata in eleambulanza al Torrette di Ancona è una donna di 62 anni che è stata investita da un'automobile sulla statale Adriatica Nord lungo il tratto tra Baia del Re e Fosso Segiore un luogo dove spesso accadono degli incidenti ebbene le sue condizioni sono considerate molto gravi dopo il suo trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Pesaro è stata infatti attivata la procedura per il trasferimento con estrema urgenza al Torrette di Ancona e poi c'è questa iniziativa dei colli al Metauro che da qualcuno insomma farà un po' sorridere o determinerà qualche perplessità in realtà è una impresa che può produrre effetti benefici di che cosa parliamo? parliamo di una raccolta di tappi di plastica tappi di plastica che possono servire per realizzare dei pozzi per il reperimento di acqua potabile in Tanzania la raccolta dei tappi di plastica finanzia la costruzione di pozzi in Tanzania ieri in occasione della giornata internazionale della solidarietà umana Davide Alpi che è il dirigente dell'istituto comprensivo Leopardi di Saltara ha presentato il progetto alla presenza dei suoi alunni dei suoi ragazzi la raccolta dei tappi di plastica ha detto è una iniziativa che consente appunto di dare acqua potabile a quelle popolazioni che sono in carenza di questo elemento vitale per la vita umana in questo momento essenziale per la vita umana dalle nostre case classi uffici inizia il viaggio della solidarietà ha così detto il dirigente ogni giorno le alunne e gli alunni si presentano a scuola con buste colme di tappi accompagnati da tanti tanti sorrisi ebbene il dirigente ha invitato anche tutta la cittadina a collaborare a questa iniziativa perché di tappi se ne servono tantissimi ne servono diverse tonnellate per realizzare un tappo ce ne vogliono 26 tonnellate di tappi insomma un tappo di plastica è molto leggero quindi pensate quale numero ne serve per condurre almeno in porto una impresa potenziato l'acquedotto un servizio più efficiente a Mondolfo un nuovo maxi serbatoio di accumulo è stato evidenziato ieri per il rilancio dell'acqua potabile un'infrastruttura che in costruzione nella zona residenziale di Mondolfo tra Via Coppi e Viale dell'Artigianato a ridosso del quartiere di San Sebastiano ieri mattina c'è stato un sopralluogo del sindaco Nicola Barbieri dell'assessore Filomena Tiritiello con la delega dell'ambiente e c'erano con lui con loro anche il presidente dell'ASET Reginelli con il dirigente Marco Romei direttore tecnico della società multiservizi rinnovati serbatoio e rete di distribuzione al via anche la telelettura con 2300 contatori che consentiranno alla dirigenza all'organizzazione dell'ASET in via centralizzata di conoscere le letture ma anche di sapere di individuare eventuali perdite quindi questo è un servizio molto molto importante vediamo anche la pagina di Senigallia dal Parco della Pace fino al Misa si incentiva tutto il sistema di videosorveglianza città vegliata da addirittura 200 telecamere sono veramente tante oggi arrivano le prime 10 del pacchetto di 135 che saranno nuove le altre invece già sono esistenti ecco la mappa nelle vie negli occhi elettronici diamo un'occhiata a questo articolo e vediamo che dall'anno nuovo ci saranno occhi elettronici a vigilare giorno e notte in modo particolare sul Misa sul fiume in modo che non accadano così cose improvvise che poi determinano quello che è accaduto nei mesi scorsi una sicurezza a 360 gradi negli ultimi giorni le telecamere che più interessano sono però quelle del Parco della Pace la società che ha in appalto il servizio ne ha proposte tre una all'ingresso in via Scarlatti due sul lato di via Monteverdi di cui una verso via Boccherini e l'altra verso via Paesiello poche distante ce ne sarà un'altra in via Puccini nei pressi della scuola e un'ulteriore sul retro e un'altra sul retro dello stadio lato Parco quindi tre occhi elettronici interni e due nei Paragi una zona particolarmente attenzionata e poi il Comune questo è un articolo simpatico scusate se sorrido perché il Comune nella sua caccia all'evasione per quanto riguarda i furbetti che non pagano le tasse ebbene ha individuato pensate chi anche la Regione Marche ebbene la Regione Marche si è dimenticata di pagare la Tasi lo IAT e scatta la multa Palazzo Raffaello deve versare una somma di 38 mila euro e sembra che non l'avesse pagata addirittura per due anni si tratta in modo particolare dell'Imu e della Tasi e non aveva pagato queste tasse chissà forse la Regione è un po' scordarella e non aveva regolato il suo dovere nei confronti del Comune di Senigallia vediamo anche la pagina di Pesaro il Comune aumenterà il tesoretto anticrisi ora vale 200 mila euro oggi pomeriggio anche il Comune di Pesaro porterà al voto il bilancio preventivo per il 2024 un bilancio che già l'assessore Nobili aveva un po' tratteggiato si sa che ci saranno 7 milioni per le risorse educative 600 mila euro per la capitale italiana della cultura e 200 mila euro da destinare al fondo anticrisi un fondo importante per aiutare le famiglie in difficoltà e anche la Confesercenti eleva la sua protesta per quanto riguarda la decisione della soprintendenza di non di vietare l'uso di tende al San Domenico solo l'uso di tettoie al San Domenico solo tende quindi solo strutture molto molto precarie solo tende per gli ambulanti stupiti dalla soprintendenza a parlare in questo caso è Davide Ipaso la Confesercenti interviene sul trasferimento a San Domenico ed ora diamo un'occhiata invece al resto del Carlino e vediamo come l'apertura è dedicata a quell'episodio di cronaca che ha portato all'arresto di un di un trentenne che rubava le catennine dal collo degli anziani i fatti si sono svolti tra luglio e metà agosto in varie zone della città in base al racconto della prima vittima un 68enne sono stati estrapolati i video delle spycam da sottoporre poi alla visione degli inquirrenti i quali hanno sono risaliti all'identità del rappinatore a fondo pagina abbiamo l'articolo che riguarda la trasformazione degli ambiti in ASPE in aziende ai servizi alle persone qui abbiamo la fotografia di Marta Ruggeri che ha presentato due emendamenti in commissione bilancio ieri in regione due emendamenti che non sono stati presi in considerazione perché appunto la maggioranza ha votato quello di Ciccioli che procrastina l'adozione appunto dell'ASPE al 30 giugno prossimo di questo abbiamo già parlato abbiamo già detto invece non abbiamo parlato della diffusione del covid e quindi dell'esigenza di vaccinarsi vaccino cercansi open day negli ambulatori ebbene è una realtà cresce il contagio covid si mobilitano i medici di famiglia per spingere sulle vaccinazioni ebbene in questo caso abbiamo a disposizione delle varie giornate diversi appuntamenti mercoledì 27 dicembre dalle 16.30 alle 19.30 l'appuntamento è negli studi medici di via Gentili 1 sopra la farmacia Ercolani e poi di via Togliati 3 accanto al centro commerciale Flaminio giovedì 28 dicembre dalle 9.30 alle 12 ed esposizione lo studio medico di via Gabrielli accanto all'ufficio postale poi venerdì 29 dicembre dalle 15 alle 18 tocca allo studio medico di via Negusanti vicino alla caserma Paolini l'obiettivo è quello di agevolare le vaccinazioni soprattutto degli anziani e come sempre si dice delle persone più deboli e poi abbiamo la replica di Biancani alle dichiarazioni di Sir Filippi che si è visto costretto a diminuire lo stanziamento che lui aveva proposto di 100.000 euro per quanto riguarda Fano e sono stati detratti 30.000 euro su proposta di Biancani che sono stati trasferiti a Pesaro e Biancani dice guardate che è stata la maggioranza a togliere 30.000 euro perché Sir Filippi stava un po' chiedendo troppo e quindi doveva essere la sua proposta la sua richiesta riequilibrata con altri centri questa è un po' è la tesi di Biancani sbaglia le misure con il camion e resta incastrato nel cavalcavia di Viale Carducci verso il Lido a Fano un camion non ha calcolato bene le distanze aveva con sé nel cassone una gru e quindi la gru è nata a sbattere contro il soffitto del sottopasso e qua abbiamo l'incidente invece che si è verificata sulla stradale adriatica nord nei pressi della Tamoil che ha coinvolto una 62enne moldava che è stata trasportata al torrette di Ancona a San Costanzo mancano gli autisti per lo scuolabus alunni a casa 20 minuti dopo San Costanzo l'ira dei genitori ovviamente sono visti tornare a casa i loro figli sarà così purtroppo tutta la settimana facciamo i salti mortali per incastrare tutti hanno detto quelli dell'azienda e intanto il comune di Urbino si appresta a votare il bilancio un bilancio da 45 milioni quasi la metà sono dedicati a investimenti e a spese e poi dall'Ateneo 700 mila euro per bandi a cascata Urbino con altre otto università fa parte di un progetto finanziato con 116 milioni di euro per legare ricerca e aziende in modo particolare che le ricerche che si fanno a livello teorico negli studi universitari possono poi trovare un'applicazione pratica a favore delle aziende e quindi del settore produttivo il no tubo contro il gasdotto protesta della cascata Gorgaccia secondo alcune informazioni i lavori dovrebbero partire a settembre dell'anno 21 futuro e sarà una battaglia legale di questa questione se ne parla da 18 anni e non senza polemiche ma ora sembra che sia diventata una priorità il completamento nel giro di due o tre anni del super gasdotto che nel suo tracciato interesserà i comuni di Apecchio di Mercatello sul Metauro di Borgo Pace e perché il che riguarda tutta la nostra provincia i lavori stando a quanto riferito dai proprietari dei terreni convocati lo scorso luglio per l'indenizzo dovrebbero iniziare molto in là ormai nel settembre del 2024 vediamo anche la notizia di apertura nella pagina di Pesaro si parla di politica si parla del centrodestra il candidato ebbene il candidato per il centrodestra potrebbe essere broccoli omoocchi e qui noi ci fermiamo vi do appuntamento come sempre a domani alle ore 7 e intanto vi auguro una buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti